Metà settimana è dedicato alle nazionali, anche la Puglia sarà molto impegnata da questo punto di vista. Gli azzurrini dell'Under 21 infatti sono sbarcati in regione. E quest'oggi allenamento ai primi tifosi sugli spalti allo stadio di Corato in vista della partita amichevole di domani ad Andia contro la Germania. Il servizio. L'entusiasmo è alle stelle dopo le gare con il Liechtenstein in Irlanda. A Casarano la nazionale Under 21 torna in Puglia. L'appuntamento è fissato per mercoledì alle 18.30 allo stadio degli Olivi di Andria. Amichevole con la Germania, prima uscita ufficiale del 2013. Partitella in famiglia e tifosi sugli spalti, gli applausi sono tutti per i volti più noti degli azzurrini. Tra questi Luca Marrone, centrocampista della Juventus, e Lorenzo Insigni, attaccante del Napoli, meridionale DOC. Abbiamo fatto l'elemento a porta aperta, tanta gente. Siamo molto contenti che ci seguono e la gente non va a vedere solo la prima squadra ma viene a vedere anche l'Under 21. Si tratta di un test importante in vista delle gare ufficiali. ha detto l'allenatore Davis Mangia che in Puglia ci torna sempre volentieri. Si sta bene, poi si sta anche un po' meglio in queste zone d'Italia in questo momento rispetto al nord. Noi arriviamo da nebbia e freddo, quindi si sta bene qua, assolutamente. Nello staff della nazionale Under 21, anche un pugliese DOC, il medico della squadra, il dottor Carmine Costabile, originario di Trani. E devi smangere... E devi smangere... E devi smangere...